però bisogna essere presenti la facciamo stare in tempo la comincia a passare che c'è una possibilità di rinunciare la si la non sa voglia la rifiore può fare il prossimo che non riesce a fare il rischio non riesce a fare il rischio però i dati in mente diventano un'idea ma questo è un'idea ma io ce ne sono insieme meglio e bene la forza è un'idea e poi andiamo pure e poi andiamo pure qua e poi andiamo pure e poi stiamo all'antempore agli amici dei e poi poi su questo ma non è la condivisione il momento di riconoscere la rendere condivichiamo tutte cose noi siamo comunque la non si è non va bene soltanto voglio sfruttare a livello di qualche tempo non basta quello che ci ha fatto la condizionata non è che infatti questo è una batteria non ci ha mandato a niente perché anzi se Pizzarotti ha applicato un sistema che ha fatto poi abbiamo già fatto un piano che prevede un piano di compostaggio chiaramente medi e piccoli proprio per evitare di fare i mega in realtà siamo contro i mega in realtà non c'è un video ma dovremmo soltanto fare attenzione a non farci la guerra della tv che rischio possono essere i protagonisti che in alcuni casi possono essere ieri ma quando uno ci mette non dice più da me il problema che è fatto poi uno può avere tutti i limiti che cuore noi c'è un limite e delle sue risorse che esce da sempre uno di noi porta una componente però è importante assolutamente essere presenti e cercare di però di quando ha problemi che vogliamo affrontare questo va per tutti è chiaro che quando le cose diciamo la capacità non c'è nessuno di servizio perché queste cose la cosa più facile è di alimentare alimentare e poi dopo cercare di portarsi dentro le persone con orgoglio perdono anche l'energia che stiamo facendo avanti in battaglia con la pia e saluto veramente allora se tu a un certo punto con orgoglio la perdita l'energia si deve mettere la merce bravo, vieni con noi come quel tristone ma no, la mano lascia stare insomma, la garza perché si è quello che ha chiamato lei in 70 mesi in un momento di comunicazione ho avuto quando ci fanno trovare il distriffino la prima mi sono riscritto e mi senti no, non ho capito questa differenza ma perché come hai visto guarda che sono di controllo per essere un strumento inoltre invece non sono un strumento di controllo che poi e vedo dice che di essere uno strumento di controllo però se uno lo uscite cioè ti scelgo quello che sei per dare dei messaggi per i cittadini non è che ti dà che ti dici le cose personali ciao ragazzi ciao temi voglio finire veniamo dappertutto veniamo con le nostre delegati il mio fratello è perché diciamo Luca dovevo venire con lui è finita un'altra dimensione